va ora in onda il culto evangelico valdese la predicazione di oggi è curata dai pastori claudio paschè e donato mazzarella cari fratelli e care sorelle in ascolto buona domenica e buona giornata celebriamo oggi la prima domenica di avvento ed è l'ultima domenica del mese di novembre e quindi questo è il quarto culto di cui ci occupiamo noi due pastori delle chiese valdesi di san secondo di pinerolo e di prarostino vogliamo raccoglierci alla presenza del signore dio ci accoglie il figlio di dio vive egli viene per salvarci il nostro volto si illumini il nostro cuore si rallegri amen al signore appartiene la terra e tutto quello che in essa il mondo e i suoi abitanti o porte alzate i vostri frontoni e voi porte eterne alzatevi e il re della gloria entrerà preghiamo padre nostro la tua bontà la tua benedizione la tua grazia e la tua misericordia sono con noi e con tutti coloro che temono il tuo nome voglia tu benedire ciascuno di noi e tutti insieme con la luce della tua presenza perché signore nostro dio con la luce della tua presenza tu ci hai dato la legge della vita e l'amore per la grazia la giustizia la benedizione la misericordia la vita e la pace sia lode a te sorgente della pace amen vogliamo ora riconoscere dinanzi al signore il nostro peccato ascoltando l'esortazione della parola di dio chi dice di essere nella luce e odia suo fratello e ancora nelle tenebre chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare fratelli e sorelle accade che ci illudiamo di poter amare dio che non vediamo evitando di amare il nostro prossimo che vediamo che ci illudiamo di vivere nella luce di dio mentre siamo immersi nelle tenebre dell'orgoglio che ci illudiamo di poterci elevare verso vette spirituali mentre inciampiamo nel nostro egoismo ma se riconosciamo il nostro peccato se confidiamo unicamente nel signore ci mettiamo nelle sue mani questo annunzio di perdono e per tutti noi nella prima lettera di giovanni leggiamo queste parole se camminiamo nella luce come egli è nella luce abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di gesù suo figlio ci purifica da ogni peccato se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità il signore ci libera dal nostro peccato riceviamo con fede il suo perdono e camminiamo nella sua luce amén i soldati cantate al signor voi che abbinate il mondo ai te a noi serviti te confermo fate gioiosi il suo amore benedio vero di tutti il signor riconosciamo la sua bontà felici figlio con amore verso l'eterna e verità canti di gioia e di festa in tonia per tutti i doni che ci dà l'amore eterno celebriam la sua costante fedeltà il testo su cui vorrei riflettere con voi brevemente è nell'Evangelo di Giovanni al secondo capitolo i primi undici versetti tre giorni dopo ci fu una festa nuziale a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù e Gesù pure fu invitato con i suoi discepoli alle nozze venuto a mancare il vino la madre di Gesù gli disse non hanno più vino Gesù le disse che c'è fra me e te o donna l'ora mia non è ancora venuta sua madre disse ai servitori fate tutto quello che vi dirà c'erano là sei recipienti di pietra del tipo adoperato per la purificazione dei giudei i quali contenevano ciascuna due o tre misure Gesù disse loro riempite d'acqua i recipienti ed essi li riempirono fino all'orlo poi disse loro adesso attingete e portatene al maestro di tavola ed essi gliene portarono quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua che era diventata vino egli non ne conosceva la provenienza ma lo sapevano bene i servitori che avevano attinto l'acqua chiamò lo sposo e gli disse ognuno serve prima il vino buono e quando si è bevuto abbondantemente il meno buono tu invece hai tenuto il vino buono fino ad ora Gesù fece questo primo dei suoi segni miracolosi in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui eccoci qua prima domenica di avvento prima delle domeniche che precedono il Natale il secondo Natale nella crisi della pandemia anche se sembra un po' diradarsi comunque è sempre una cappa che è su di noi che provoca crisi non solo economiche ma anche crisi tra persone tra chi litiga vaccino sì, vaccino no scontri cose poco piacevoli eppure come credenti noi sappiamo che le crisi ci sono e che il Signore le risolve però non è sempre come vorremmo noi e i risultati non sono come li vorremmo noi ma sono spesso migliori poi siamo esseri umani peccatori e peccatrici per cui complichiamo di nuovo tutto e rovineremo di nuovo e il Signore pazientemente ricostruisce a Natale ci ricorderemo che Cristo è il Dio che si è avvicinato totalmente all'umanità e questa vicinanza non sparisce anche quando si manifestano le crisi nella storia e nella vita dell'umanità quando attraversiamo le crisi la mancanza di qualcosa pensiamo alle nozze di Cana lì c'era una crisi piccola vedendola dal nostro punto di vista vabbè è finito il vino una festa di nozze ma per quell'epoca era una crisi potenzialmente esplosiva non era il mondo che viviamo oggi godereccio che possiamo andare al ristorante o in pizzeria spesso spesso la festa di nozze era l'unica occasione che avevano per fare una festa mangiare bene e bere bene e se finisce il vino finisce la festa e finisce con una grande crisi e i poveri sposi sarebbero stati ricordati per tutta la loro vita come quelli che non avevano dato abbastanza vino agli invitanti e alle nozze io vorrei invitarvi a tre passaggi di questo racconto che secondo me sono tre passaggi che si prestano bene anche alle nostre reazioni di credenti in tutte le crisi la prima viene il primo passaggio viene dalla richiesta di Maria Maria madre di Gesù pensa di avere forse maggiori diritti è suo figlio dopo tutto e gli va a dire ma fai qualcosa hanno finito il vino e c'è una risposta terribile di Gesù che uno non si aspetterebbe di un figlio a sua madre che c'è fra me e te o donna la mia ora non è ancora venuta mette la distanza perché mette la distanza certo parla della sua ora e la sua ora sarà la croce eccetera ma adesso non c'è ancora la croce non la si vede non la si intuisce ancora e però c'è un altro rischio c'è il rischio che si pensi che per avvicinarsi a Dio c'è bisogno di mediatori umani o in cielo quanto l'unico mediatore che ti può portare a Dio è proprio lì ed è Gesù non c'è bisogno di nessun altro non c'è bisogno di mediatori che chiedano a Dio o al Signore Gesù di risolvere le difficoltà lui sa come e cosa fare attenzione però questo può sembrare e io lo sono una risposta da iper protestante quindi quelli che hanno mediatori in cielo sulla terra sono altre chiese cristiane noi siamo a posto no non dobbiamo sentirci troppo a posto con la coscienza neanche noi quante volte diventiamo noi piccoli mediatori di noi stessi chiedendo a Dio di fare le cose come vorremmo che fossero fatte e di risolvere i problemi nel modo in cui noi immaginiamo che vadano risolti invece dobbiamo ascoltare la seconda risposta di Maria quella non rivolta più a Gesù mai servi che dice fate tutto quello che vi dirà ecco lì possiamo come protestanti anche ascoltare l'invito di Maria che dice ubbidite a Cristo tutto il resto non serve non servono mediatori non servono chissà quali riti ubbidite a Cristo ubbidite a che cosa? alla sua parola a quello che lui vi dirà a ciò che uscirà dalla sua bocca quella è la strada da percorrere prima cosa quindi nelle crisi ascoltare la richiesta che ci viene da questo testo ascoltate ciò che il Signore vi dice la seconda parola è la risposta di Dio tramite Gesù riempite d'acqua i recipienti ora viene solo da pensare allo stupore dei servi a cui è stato dato questo incarico cioè noi abbiamo bisogno di vino e tu ci dai dell'acqua grazie proprio un miracolo questo e già sovente ci ribelliamo alle risposte che Dio ci dà e pensiamo che Dio non ascolta non capisce i nostri problemi le nostre difficoltà risponde in modo strano diverso banale persino non c'è bisogno di Dio per avere un po' d'acqua io voglio il miracolo vero ma essere credenti e ricordarci che il poco che il Signore ci chiede di fare dobbiamo compierlo perché il poco può diventare molto solo grazie a Lui ma il poco che ci chiede di fare dobbiamo farlo se i servi avessero detto vabbè cosa vuoi che mettiamo dell'acqua ma non dire stupidacini invece lo fanno con tutti i loro dubbi le loro incertezze noi abbiamo continuato a predicare a parlare dell'amore di Dio anche in mezzo alla pandemia quando eravamo tutti bloccati quando tutti si lamentavano e continuiamo a parlare dell'amore di Dio anche adesso anche in mezzo alle difficoltà perché sappiamo che il poco che dobbiamo fare e annunciare questa parola ma il Signore lo tramuta in molto una risposta più grande di quella che possiamo aspettarci e dobbiamo compiere ciò che il Signore ci chiede di fare senza chiederci troppo se è davvero la strada giusta la parola del Signore non sbaglia nella nostra storia lontana ma anche in quella recente nei nostri servizi nella vita delle Chiese e del mondo quante volte abbiamo visto moltiplicarsi le piccole cose che Lui ci aveva chiesto di fare l'abbiamo fatto pensando è una roba insignificante come un po' d'acqua eppure è diventata fondamentale e poi c'è la risposta umana finale adesso attingete dice Gesù e portatene al maestro di tavola ecco il compito dei credenti e della Chiesa comunicare al mondo che nelle crisi il Signore comunque continua ad agire tu fai il tuo pezzo e il tuo pezzo è in questo caso prendi quella roba che è stata versata nei recipienti che tu sei convinto sia acqua portala a compimento e scoprirai che il Signore ha trasformato le piccole cose in grandi cose le nozze hanno potuto continuare l'acqua è diventata vino la festa gioiosa può proseguire ecco questo è il mio augurio in questo avvento e in questo Natale che ci apprestiamo a festeggiare e a ricordare tutti insieme ricordarci che la festa gioiosa può proseguire quale festa quella del panettone a Natale no la festa della vita che continua e continua non perché siamo bravi noi a trovare le soluzioni ma perché il Signore le ha trovate e ci ha chiesto in queste soluzioni di mettere una piccola parte di noi stessi non tiriamoci indietro e sia l'ora del Signore Amen grazie a tutti che ci ha chiesto All'arma voce stai Uvividi un giocci Madre venia un signore Uvividi un giocci Madre venia un signore Uvividi un giocci Dio Onnipotente, Padre Celeste, accogli con bontà la preghiera del tuo popolo in questo tempo di avvento. Signore vieni a rafforzare la nostra fede, vieni a fortificare la nostra speranza, vieni tu stesso a suscitare l'amore che attendi da noi. Te lo chiediamo nel nome di Gesù che ci ha insegnato a pregarti così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione ma liberaci dal male, tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. E ora accogliamo queste parole di benedizione che ci vengono dalla lettera agli Efesini. Ora siete luce nel Signore, comportatevi come figli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. La grazia sia con tutti quelli che amano il Signore nostro Gesù Cristo con amore inalterabile. Amen. E ancora una volta, buona domenica e buona settimana, cari fratelli e care sorelle, che siete state in ascolto di questo culto che è stato preparato dai pastori delle Chiese Valdesi di San Secondo di Pinerolo e di Prarostino. Grazie a tutti.